Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Iniziamo puntuali, una cosa non scontata all'università che spesso si prende quattro d'ora accademico, invece oggi riusciamo ad essere puntuali grazie alla puntualità del dottor Cottarelli. Gentilissimo dottor Cottarelli, gradite e graditi ospiti, care colleghe e cari colleghi, gentili studentesse e studenti, e con grande piacere che porgo a voi tutti il saluto del magnifico rettore della nostra università degli studi di Ferrara, professor Giorgio Zauli, ma sono molto onorato di porgervi anche personalmente i saluti come direttore scientifico del Master Perfect e prorettore vicario dell'università. Vi porgo un caloroso saluto di benvenuti a questa importante giornata di riflessione e di dibattito. Il titolo della conferenza Fondo Monetario Internazionale e pubblica amministrazione, cambiamenti in atto e possibili insegnamenti comuni, estremamente accattivante anche per i non addetti ai lavori. Il magnifico rettore mi ha chiesto in particolare di porgere un saluto speciale al nostro ospite, al dottor Cottarelli, ringraziandolo per aver accettato il nostro invito a un appuntamento che sono sicuro offrirà alle nostre studentesse e ai nostri studenti dell'università, del dipartimento di economia e management e del nostro Master Perfect la possibilità di riflettere su temi di grandissima attualità e grandissima rilevanza. L'obiettivo che ci poniamo questa mattinata in questo incontro con le studentesse e con gli studenti è quello di fornire alle stesse e agli stessi una panoramica su quelle che sono le grandi sfide che il nostro Paese si prepara ad affrontare nei prossimi mesi, nei prossimi anni anche alla luce di quelli che sono gli scenari internazionali. Sono convinto che la consapevolezza sugli scenari che questo dibattito susciterà in voi, nelle sue intestesse e agli studenti e le risposte che i nostri autorevoli colleghi cercheranno di dare sono già parte della soluzione ai problemi che il nostro Paese ha davanti a sé. Consentitemi ancora di rivolgere un ringraziamento alla professoressa Simonetta Renga, direttore del Dipartimento di Economia e Management e in particolare alla professoressa Caterina Colombo, al professor Enrico Bracci, che hanno accettato l'invito a partecipare alla conferenza, contribuendo ad animarla con le loro osservazioni, i loro pungoli, i loro stimoli, le loro domande che porranno il dottor Cottarelli. Senza dubbio la professoressa Colombo e il professor Bracci con il dottor Cottarelli costituiscono un parterre de roi che darà lustro e smalto a questa nostra iniziativa. Desidero ancora apporgere i miei complimenti a colori quali hanno reso possibile questo evento e parto ovviamente dal presidente Giampaolo Barbieri di Clara che ci accompagna come partner del Master già da diverse edizioni e ha creduto in questa iniziativa, è il vero motore di questa iniziativa. Però permettetemi con orgoglio di ringraziare e fare i complimenti anche agli studenti Benedetto Cavicchi, Enrico De Vitto e Giacomo Natali, perché quando le iniziative nascono dalle studentesse agli studenti, allora secondo me hanno una probabilità di successo maggiore perché sono sentite, i nostri studenti hanno fame di questo tipo di eventi che raccontano il mondo, uscendo dalle aule delle università. Permettetemi di ringraziare ancora il SEA, il centro di learning di Ateneo che è il nostro partner che ci consente di realizzare una diretta streaming in diverse aule del nostro Ateneo e infine al mio impeccabile staff a Sandro Mazzatorta, Andrea Marras, Nicola Novelli, Luca Papi, Giorgia Gobbo. Io mi scusi in anticipo, non mi sarà possibile assistere a tutti i lavori perché da lunedì il nostro Ateneo è sotto visita dell'Ambur, Agenzia Nazionale di Valutazione per l'Università della Ricerca, che ci farà un'ispezione ai fini dell'accreditamento, una cosa normale che avviene in tutte le università ma l'Ambur è molto severa e quindi dovrò correre in Ateneo per preparare la visita che inizierà il 7 novembre. Con questo vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Bene, direi che a questo punto possiamo iniziare a aprire i lavori, chiedo al dottor Cortarelli di accomodarsi, la presentazione è già caricata. Perfetto, per il pomeriggio. Per cui per iniziare la relazione poi il dibattito che ne seguirà. Un rimane seduto, preferisce? Un rimane seduto, grazie di questo invito prima di tutto perché mi è molto contento di essere con voi oggi, grazie di essere venuti. I due temi, fondo monetario, pubblica amministrazione, sono non immediatamente collegabili ma sono collegabili in qualche modo tramite alla mia persona, al mio lavoro personale, al mio curriculum vitae. Io ho iniziato a lavorare in Banca d'Italia qualche decennio fa, mi sono trasferito poi al Fondo Monetario Internazionale nel 1988 e ho passato 25 anni al Fondo Monetario, nello staff del Fondo Monetario, sono andato via dal Fondo nel 2013, ero diventato il capo di uno dei dipartimenti del Fondo Monetario, il Dipartimento di Finanza Pubblica, il Fiscal Affairs Department e sono venuto in Italia dove per un anno ho fatto il lavoro di commissario per la revisione della spesa, la spending review come si diceva e come si dice ancora e poi sono tornato al Fondo Monetario, dopo un anno in Italia sono emigrato di nuovo, questa volta però per lavorare nel board del Fondo Monetario, non più nello staff del Fondo Monetario. Il Fondo Monetario ha un board costituito da 24 direttori esecutivi che rappresentano i 188 membri del Fondo Monetario. Quindi mentre prima ero un dipendente di un'organizzazione internazionale, un international civil servant, adesso invece siedo al board in rappresentanza di sei paesi tra cui l'Italia. Vorrei parlarvi appunto di questa mia esperienza al Fondo Monetario e vorrei parlarvi anche della mia esperienza come commissario per la revisione della spesa. Ci sono alcuni temi comuni, il tema forse più comune di cui vorrei parlarvi è quello del cambiamento. Il Fondo Monetario è cambiato negli ultimi 15 anni in maniera molto importante e vorrei parlarvi di questi cambiamenti. Poi ovviamente il lavoro di commissario per la spesa pubblica in Italia, il lavoro della riforma e della pubblica amministrazione è anche questo un tema di cambiamento anche se forse i cambiamenti sono meno marcati di quelli che io avrei voluto vedere. Cominciamo dal Fondo Monetario. Che cos'è il Fondo Monetario internazionale? Il Fondo Monetario internazionale è un'organizzazione, come dice il nome, è un'organizzazione internazionale di cui fanno parte 188 paesi, quasi tutti i paesi del mondo. Cuba non è tra i paesi che non fanno parte del Fondo Monetario. Cuba è probabilmente quello più grande e più importante ma anche qui potrebbero esserci cambiamenti in futuro. Il Fondo Monetario ha risorse importanti, ha circa 2.700 dipendenti e in termini di risorse finanziarie per fare quello che vi dirò fra poco ha a sua disposizione diverse centinaia di miliardi di dollari. Che cosa fa il Fondo Monetario? Il Fondo Monetario fa essenzialmente tre cose. La prima è quella per cui è più conosciuto, fa prestiti ai paesi che sono in crisi. Se un paese non riesce più a finanziarsi sui mercati finanziari, non riesce più a prendere a prestito sui mercati finanziari, se un paese finisce le riserve, le proprie riserve di valuta estera con cui comprare importazioni, oppure riesce a finanziarsi ma a tassi di interesse molto elevato, viene al Fondo Monetario e il Fondo Monetario concede prestiti in cambio di una correzione delle proprie politiche. Se un paese è in crisi vuol dire che ha fatto qualcosa che non andava. Allora il Fondo Monetario dà prestiti ma per essere sicuro che i soldi che vengono prestati vengano restituiti, i soldi che noi prestiamo sono i soldi della comunità internazionale, vengono imposti delle condizioni ai paesi per esempio ridurre i propri deficit pubblici, fare delle riforme che possano rilanciare la crescita e così via. Questa è la cosa più importante che fa il Fondo Monetario, o meglio questa è la cosa per cui il Fondo Monetario è più conosciuto, i prestiti ai paesi. Negli ultimi anni, come sapete, prestiti sono stati fatti anche a paesi europei come la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia nel 2011 ci è andata vicino a dover ricorrere a un paese del Fondo Monetario ma è riuscita ad evitarlo. La seconda cosa che fa il Fondo Monetario è fare un'azione di sorveglianza su tutti i paesi membri del Fondo, i 188 paesi, dal più piccolo al più grande, come gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti a San Marino diciamo, io rappresento anche San Marino al bordo del Fondo Monetario. Un'azione di sorveglianza che si manifesta in almeno una visita di un team del Fondo Monetario internazionale che ogni anno, almeno una volta all'anno, visita i paesi, prepara una relazione, una relazione che viene discusa al bordo. Questo in qualche modo per prevenire le crisi. La terza cosa che fa il Fondo Monetario è fare un'attività di assistenza tecnica ai paesi che ne hanno bisogno. Se un paese vuole fare una riforma dell'IVA o un paese vuole introdurre l'IVA per esempio o vuole riformare le proprie pensioni, chiede un aiuto tecnico al Fondo Monetario. Questa è la faccia buona del Fondo Monetario, perché questo è un servizio che noi diamo gratis a tutti i paesi tranne quelli avanzati che da due anni fa devono pagare per la propria assistenza tecnica. È la faccia buona perché è un'attività che noi facciamo su richiesta dei paesi. Vi ho detto molto rapidamente quindi che cos'è il Fondo Monetario, che cosa fa, prestiti ai paesi, sorveglianza su tutti i paesi, assistenza tecnica ai paesi. Questo l'ho sempre fatto fondamentalmente dalla sua nascita. L'attività di sorveglianza si è sviluppata nel corso degli anni 70 ma fondamentalmente sono decenni che il Fondo Monetario fa queste tre cose. Nel fare queste tre cose però il Fondo è cambiato radicalmente negli ultimi 10-15 anni. Ci sono state quattro trasformazioni di importanza fondamentale. La prima trasformazione è che il Fondo Monetario è diventato molto più aperto e trasparente di quello che era una volta. Il Fondo Monetario era accusato di essere un'istituzione chiusa, che non parlava col pubblico, che non prendeva decisioni senza spiegare perché. Ora quasi tutti i rapporti, i documenti del Fondo Monetario attualmente sono pubblicati. Un paese può bloccare la pubblicazione dei documenti del Fondo, ma è diventata una pratica abbastanza poco comune quella di non far pubblicare i rapporti del Fondo Monetario internazionale. È una cosa che credo sia molto importante per far capire che cosa facciamo e perché lo facciamo, il rischio che c'è, e ve lo dico sinceramente, è che in questa attività che è molto più aperta verso l'esterno c'è il rischio di dire e di fare delle cose soltanto perché suonano bene. Quindi fare cose non tanto perché sono necessarie per l'istituzione ma perché funzionano con il pubblico. Il rapporto con i media, come sapete, è molto difficile perché delle volte crea anche una distorsione per chi lo fa. Si finisce per comunicare quello che il pubblico vuol sentir dire. Quindi questa attività di apertura è stata molto importante in pubblicazione. Io vedo il rischio di quello di voler far apparire le cose come spesso, non solo dire cose soltanto perché suonano bene. Seconda trasformazione. Il Fondo Monetario si è spostato, se mi consideri il tema dal punto di vista economico, si è spostato molto più, tra virgolette, a sinistra di quello che era una volta. In che senso? Ha preso posizioni che sono molto meno ispirate a quello che si chiamava una volta il Washington Consensus, il consensus formato a Washington presso queste istituzioni internazionali. per cui le uniche politiche che andavano bene erano politiche di liberalizzazione spinta di tutto, dai movimenti di capitale a ogni cosa. Liberalizzazione, un mercato più concorrenziale, maggiore concorrenza, questa era l'unica cosa che importava. Spesa pubblica ridotta al minimo, tasse ridotta al minimo e così via. Poco interesse per problemi quali la distribuzione del reddito. Tutto questo è cambiato in maniera abbastanza significativa. Il Fondo Monetario adesso per esempio è molto più aperto all'imposizione di controlli sui movimenti di capitale di quello che fosse una volta. Il Fondo Monetario ha riconosciuto che quando un paese non cresce non è soltanto perché c'è un problema di offerta, quindi la necessità di fare riforme strutturali, ma anche perché ci può essere un problema di domanda, quindi politiche keynesiane che una volta venivano escluse in qualche modo dal Fondo Monetario, adesso vedono il Fondo Monetario molto più favorevoli. Conseguentemente il Fondo Monetario spesso ora sostiene la necessità di fare politiche monetarie e di spesa pubblica o di finanza pubblica espansive. In questo momento in particolare il Fondo Monetario dice che non c'è abbastanza domanda aggregata. Io credo che sinceramente il Fondo Monetario avrebbe fatto bene a fare questi cambiamenti. Ho talvolta il timore che si vada nella direzione, si stia esagerando un po' troppo nell'andare nella direzione di chiedere politiche espansive soprattutto in alcuni paesi. Altro elemento molto importante, c'è un'attenzione molto maggiore per problemi della distribuzione del reddito e per problemi della povertà. Il secondo cambiamento molto importante è stato questo. Suscita anche questo delle domande, prima di tutto quanto è reale questo cambiamento. Di nuovo dobbiamo distinguere tra quello che può essere soltanto una manifestazione verso l'esterno, di buoni principi e poi la pratica. La pratica è un po' diversa. Nella pratica io vedo ancora che per molti paesi il Fondo Monetario si comporta ancora in maniera piuttosto simile a quella in cui si comportava 20 o 30 anni fa. C'è una tensione anche all'interno del Fondo tra le enunciazioni di principi generali per cui appunto occorrono politiche espansive e poi la pratica dei singoli paesi in cui il fondo è molto più prudente di quanto fosse una volta. io credo che come dico ci sia importante che il Fondo Monetario abbia fatto un cambiamento in questa direzione, temo però che in alcuni casi effettivamente si vada troppo nella direzione di preoccuparsi di problemi di breve periodo e quindi problemi di domanda aggregata piuttosto che problemi di lungo periodo. Qual è stata la causa di questa trasformazione negli ultimi anni? Una è stata ovviamente l'osservazione della difficoltà dopo il 2008 e 2009, la crisi mondiale del 2008 e 2009, difficoltà di sostenere il processo di crescita senza un sostegno da parte della politica monetaria e soprattutto della politica fiscale. Credo abbiano contato anche, e questo forse non è una cosa molto bella, ma credo che purtroppo abbia contato molto anche il fatto che da otto anni alla Casa Bianca siede il Partito Democratico negli Stati Uniti. Quando dico non è una cosa bella intendo dire non è una cosa, non mi riferisco al fatto che c'è un Presidente Democratico, mi riferisco al fatto che il Fondo Monetario ancora risente molto pesantemente, credo, di chi sta alla Casa Bianca. Ecco, non dovrebbe essere così. Questa è una mia ipotesi, non ho nessuna evidenza, però a me viene talvolta il dubbio che la posizione che prende il Fondo Monetario è ancora molto troppo influenzata dalla posizione degli Stati Uniti. Terzo cambiamento, e qui sto andando molto più lentamente del previsto, però volevo darvi un quadro un po' completo. Terza trasformazione piuttosto importante per il Fondo Monetario è l'aumento dell'importanza, del peso dei paesi emergenti all'interno del Fondo Monetario. Al Fondo Monetario ogni paese ha una sua quota nel capitale del fondo che determina anche i diritti di voto. I diritti del voto quindi dipendono dalla dimensione del paese. Siccome le economie emergenti hanno aumentato il proprio peso nell'economia mondiale c'è stato un processo di spostamento di voti verso queste economie, un processo che è sempre in corso, certo non è stato completato ma qualcosa si è fatto. Oltre a questo cambiamento legale nei voti all'interno del Fondo Monetario, voti all'interno del board, dove io siedo, del Fondo Monetario, è anche aumentato il peso di paesi, il peso effettivo al di là del peso legale di paesi come la Cina. penso sia difficile al momento, sarebbe difficile al momento prendere per il Fondo Monetario delle decisioni che fossero contrarie alla Cina. Non era così 10 o 15 anni fa. Credo sia giusto questo cambiamento perché la Cina e altri paesi emergenti stanno crescendo molto rapidamente. Purtroppo per l'Europa c'è un doppio problema. Uno appunto nella minore capacità dell'Europa di pesare perché effettivamente l'economia europea conta meno di quello che contava 20-30 anni fa. Però io vedo anche la difficoltà, la persistenza dell'Europa, dei paesi dell'Unione europea e anzi i paesi dell'area dell'euro in particolare a parlare con un'unica voce. Gli europei sono ancora una volta anche al Fondo Monetario divisi, il che rende più difficile che riduce il loro peso. Rivela in qualche modo l'incapacità dell'Europa di parlare con una sola voce. Ultima trasformazione. Il Fondo Monetario è diventato più piccolo di quello che era una volta rispetto al peso dell'economia mondiale. I movimenti capitali sono aumentati enormemente negli ultimi decenni. Le risorse del Fondo Monetario sono aumentate ma non in misura pari alla crescita dell'economia mondiale. Il che credo abbia comportato una maggiore prudenza da parte del Fondo Monetario nell'uso delle proprie risorse e una maggiore tendenza nel cercare di far pagare al settore privato piuttosto che pagare con soldi del contribuente internazionale la risoluzione di certe crisi. Cosa vuol dire questo? Molto più di frequente che in passato il Fondo Monetario chiede come condizione per i propri prestiti che ci sia una ristrutturazione del debito dei paesi che prendono a prestito. Il che vuol dire che al paese debitore non viene chiesto di rimborsare i propri prestiti presi in passato dal settore pubblico ma anche dal settore privato. Molti vedono questo come una cosa estremamente favorevole. È il bailing in delle grandi banche internazionali ma in generale anche di chi ha dato a prestito anche dei risparmiatori individuali che hanno dato prestito ai paesi. Il Fondo Monetario è stato molto favorevole in particolare nel caso della Grecia a una ristrutturazione del debito e attualmente il motivo per cui il Fondo Monetario non è ancora rientrato con un proprio programma di sostegno alla Grecia è proprio la mancanza di un accordo con i creditori della Grecia che in questo caso sono i paesi europei sul fatto che il debito greco questa volta la parte del debito verso i creditori europei, i creditori ufficiali tra cui l'Italia venga ristrutturato. Io credo che questa cosa sia dovuta anche al fatto che il Fondo Monetario avendo meno risorse richiede una maggiore partecipazione del capitale proveniente da altre parti, appunto anche i creditori di un paese per la risoluzione del credito. Conclusione, cambiamenti molto importanti, molto rilevanti. C'è uno rischio che io vedo, sono due rischi, uno di vedere un fondo che è troppo piccolo per avere un peso nelle decisioni principali perché appunto le proprie risorse finanziarie non sono aumentate abbastanza rapidamente negli ultimi decenni e secondo anche in qualche modo c'è un rischio di avere un fondo monetario più politicizzato di quanto fosse una volta perché questa maggiore apertura verso l'esterno in qualche modo pone dei vincoli a quello che diciamo facciamo e così via. Questo era quello che volevo dirvi sul fondo monetario, io dovevo parlare tutto per circa 20-25 minuti è il complesso, ho parlato per 20 minuti soltanto del fondo monetario quindi cercherò di essere più breve parlando del secondo tema. Riforma della pubblica amministrazione e spending review. Allora io qui potrei parlare per due ore, tre ore, ho scritto un libro su questo tema, sul tema della spesa pubblica in Italia. Non intendo parlarvi della riforma della pubblica amministrazione in senso stretto, la riforma Madia, sapete che è stata approvata di recente una riforma importante. Voglio darvi qualche spunto di riflessione partendo dal mio lavoro che ho fatto per un anno di commissario per la revisione della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'efficienza della spesa pubblica. Primo punto che voglio mettere sul tavolo riguarda la trasparenza sulla spesa pubblica. Non credo ci sia abbastanza trasparenza su quanto si spende, quanto si spende, perché si spende. Il problema non è la pubblicazione dei dati. C'è una montagna enorme di dati, fra l'altro quando io ero commissario abbiamo iniziato anche a pubblicare nuovi dati che non vennero pubblicati precedentemente, la banca dati dei comuni per esempio è stata aperta, la banca dati della ragioneria che prima veniva è considerata una specie di segreto di stato, adesso è online, può essere consultata. Ma il vero problema non è la quantità di dati a disposizione, è la complessità della questione e il fatto che i documenti che illustrano questi dati, i documenti pubblicati per esempio dal Ministero dell'Economia, i documenti pubblicati dalla ragioneria generale dello Stato, i documenti della Corte dei Conti, sono ancora estremamente lunghi, complessi, difficili da leggere. Avrete forse sentito negli ultimi settimane la polemica che c'è stata tra l'attuale commissario per la revisione della spesa, l'onorevole Gutgeld e il professor Perotti che ha lavorato anche lui, non era formalmente commissario ma per un anno ha lavorato a Palazzo Chigi come consigliere su questioni di spesa pubblica. Si è aperta una politica tra i due sui giornali con scambi ripetuti a distanza di un giorno di due giorni su quante erano stati i tagli della spesa pubblica con uno che diceva che i tagli erano stati 25 miliardi nel periodo 2014-2016 e l'altro che dicevano che erano zero. Allora c'è una certa differenza tra zero e 25 miliardi e uno diceva è possibile che io poi ho la mia versione dei fatti che è quella che trovate nel mio libro di quanto siano stati i tagli veri ma è possibile che non si riesca a sapere se i tagli sono stati zero oppure se sono stati 25 miliardi. Manca purtroppo in Italia qualcuno che faccia chiarezza su queste cose. Negli Stati Uniti c'è il cosiddetto Congressional Budget Office che è un'istituzione a politica svolge tra le varie cose anche questa funzione. Se c'è un giornalista che vuole avere una risposta precisa e non politica su una certa questione che riguarda la finanza pubblica si rivolge al Congressional Budget Office. Qui in Italia abbiamo stato creato l'ufficio parlamentare di bilancio con un ruolo diverso ma secondo me quello che è un ruolo forse avete pure sentito le polemiche che sono state sollevate riguardo le ipotesi macroeconomiche sottostanti bilancio del 2017 polemica in parte suscitata dai commenti dell'ufficio parlamentare di bilancio però l'ufficio parlamentare di bilancio italiano purtroppo svolge un ruolo abbastanza limitato. Quindi manca un contributo di chiarimento alla finanza pubblica italiana e come conseguenza il dibattito sui giornali, in televisione su questi temi mi sembra poco informato. Quindi questa è una lacuna che ancora vedo. Secondo punto che volevo fare, quando si parla di spesa pubblica si parla sempre di quantità e poco di qualità della spesa pubblica. Siamo ancora molto indietro come Paese sulla misurazione della qualità della spesa pubblica. È una cosa positiva che si sia nominata all'inizio di questa sessione l'ANVUR perché l'ANVUR svolge un ruolo importante. L'idea che la spesa pubblica debba essere collegata a certi obiettivi che si devono raggiungere, obiettivi quantitativi e qualitativi ancora non è entrata a far parte degli strumenti di gestione della spesa pubblica in Italia mentre invece è entrata ormai da circa 20 anni per esempio nel Regno Unito che nella metà degli anni 90 ha introdotto un sistema di performance budgeting un modo di fare budgeting, di fare il budget dello Stato basato sulla misurazione della performance quindi con programmi di spesa che ex ante identificano che cosa si vuole ottenere con un certo tipo di spesa e ex post consentono di andare a verificare quali risultati sono stati ottenuti e questo costituisce la base di una spending review ecco tutto questo è stato fatto nel Regno Unito ma noi siamo ancora indietro nel 2009 c'era stata la legge di riforma nel 2009 cercava di introdurre questi sistemi di performance budgeting in Italia anche l'ultima riforma del bilancio dello Stato va in questa direzione però credo che ci sia ancora molto da fare. Terzo punto quando si parla di spesa pubblica si parla molto di eliminazione degli sprechi purtroppo le cose non sono così semplici fare una revisione della spesa non vuol dire soltanto andare a eliminare gli sprechi ma vuol dire fondamentalmente andare a individuare una scala di priorità e poi decidere a un certo punto di tagliare certe cose non soltanto perché non producono niente ma perché sono meno prioritarie ad altre cose che si possono fare con i soldi del contribuente inclusi per esempio tagliare le tasse. Quindi pensare che la questione della revisione della spesa possa esaurirsi a una questione di eliminiamo gli sprechi è un grosso errore. C'è un problema di efficienza c'è anche un problema però di definire a livello politico qual è il perimetro la questione del perimetro di quello che deve fare lo Stato rispetto a quello che deve fare il privato e questa è una questione politica perché decidere quanto deve essere ampia l'azione del settore pubblico rispetto al settore privato è una cosa in cui fino a un certo punto gli economisti possono dire qualcosa ma alla fine dipende anche dal giudizio politico ecco queste questioni di perimetro purtroppo in Italia sono poco discusse sono poco analizzate e si cerca di ridurre il problema della revisione della spesa puramente a una questione di sprechi ovviamente quello che è uno spreco per una persona non è uno spreco per un altro ci sono cose che anche al 90% degli economisti il 90% delle persone di buon senso direbbe che è uno spreco ma chi riceve soldi per chi riceve qualche finanziamento dallo Stato quello certo non è uno spreco quindi stiamo molto attenti nel cercare di ridurre la questione della spesa pubblica soltanto a quello di eliminare gli sprechi un esempio tipico di questa questione del perimetro di quello che deve fare il settore pubblico rispetto a quello che deve fare il settore privato riguarda il settore delle partecipate le partecipate locali ecco il punto che io ho fatto nel mio rapporto sulle partecipate era che c'erano cose che ovviamente andavano cambiate perché c'erano sprechi e soldi del contribuente che venivano buttati via c'erano anche imprese che magari non erano in perdita però non si capiva perché certe cose dovevano essere fatte dal settore pubblico piuttosto che dal settore privato produrre prosciutti non è una cosa che lo Stato di per sé dovrebbe fare svolgere certi servizi di consulenza non sono cose che lo Stato in questo caso le amministrazioni locali devono fare quindi risolvere questi problemi di perimetro è molto importante la riforma delle partecipate che fa parte della riforma Madia della pubblica amministrazione cerca di risolvere questo problema però mentre per altre cose segue le raccomandazioni del mio rapporto per questa questione del perimetro seguo ancora l'approccio passato quello di dire fondamentalmente una municipalizzata deve fare qualcosa di utile rispetto a quelli che sono i compiti istituzionali di un certo comune, di una certa provincia, di una certa regione che è una cosa abbastanza generica perché poi è tutta una questione di interpretazione quella di dire ma questa attività di una partecipata che produce prosciutti il comune può dire beh i prosciutti sono importanti per il mio comune perché siamo un'area in cui l'agricoltura è molto importante quindi vogliamo rilanciare e così via la proposta che io avevo fatto era quello di definire una lista che poteva essere rivista ogni 5-6 anni una lista di aree in cui il comune o le province o le regioni non ci dovrebbero entrare perché il settore privato può svolgere quell'attività in maniera più efficiente una cosa che voglio aggiungere su questa questione dell'efficienza prima di passare al quarto punto quello di cercare di capire che cosa dovrebbe fare e che cosa non dovrebbero fare lo Stato è una cosa molto importante su cui può aiutare molto il confronto con gli altri paesi il confronto internazionale perché appunto insomma alcune cose è difficile uno può basare le proprie decisioni sulla propria esperienza ma andare a vedere che cosa fanno certi paesi se certi servizi sono forniti da altri paesi o no e credo sia molto utile nel fare i confronti internazionali però non sono semplici vanno fatti in modo appropriato soprattutto vanno fatti tenendo conto di quelli che sono i vincoli di bilancio per l'Italia rispetto agli altri paesi e questa è una cosa che nel mio lavoro di revisione abbiamo fatto in maniera di revisione della spesa abbiamo fatto in maniera piuttosto accurata spesso si dice ma la spesa per una certa attività l'esempio del mio libro è la spesa per la difesa si dice noi spendiamo per la difesa circa l'1,2% del PIL questa è più o meno la media europea quindi noi nel settore delle difese non spendiamo troppo e quindi non dobbiamo tagliare in quest'area e così via il mio punto era che altri paesi non hanno un debito pubblico alto come il nostro e quindi noi non ci possiamo permettere di spendere per certe cose compreso la difesa dicevo nel mio lavoro tanto quanto ci possono permettere gli altri paesi quindi applicando questo criterio sono arrivato alla conclusione che l'Italia spende un po' troppo in tutti i settori tranne in due settori la pubblica istruzione e la cultura tranne questi due settori in tutti gli altri settori in termini di confronto internazionale tenendo conto dei nostri vincoli di bilancio c'è qualcosa da risparmiare e questo fatto di avere appunto escluso la pubblica istruzione e la cultura vi spiega perché con questo ragionamento vi spiega perché nelle slides che riassumono le mie raccomandazioni e nel mio libro non trovate una parte che riguarda pubblica istruzione e cultura fra l'altro questo non vuol dire che non ci siano sprechi in queste due aree vuol dire che se si trovano degli sprechi però vanno se si risparmiano risorse queste dovrebbero essere reinvestite nello stesso settore quarto e ultimo punto che volevo fare sulla spesa pubblica si ricollega a quello che ho detto inizialmente sui dati su quanto è stato fatto a che punto siamo nel contenimento della spesa pubblica italiana i miei calcoli che sono basati e sono abbastanza dettagliati e sono documentati nel mio libro vi dicono che tra il 2010 e il 2014 l'aumento della spesa primaria delle pubbliche amministrazioni spesa primaria vuol dire la spesa senza gli interessi delle pubbliche amministrazioni tra il 2010 e il 2014 c'è stato un aumento in termini di euro spesi del 2% 2% non 2% all'anno 2% sull'intero periodo tra il 2009 anzi e il 2014 quindi c'è stata un'azione di contenimento siccome nel periodo c'è stata un po' di inflazione adesso non ci si ricorda ma il 2010 e il 2011 quelli sono stati anni di inflazione abbastanza alta in termini di potere d'acquisto la spesa della pubblica amministrazione primaria spesa primaria tra il 2009 e il 2014 si è ridotta in termini reali di circa il 7 l'8% nonostante ci sia stato un aumento della spesa per pensione che vuol dire tutte le altre componenti della spesa soprattutto spesa per salari della pubblica amministrazione e spesa per investimenti ma anche tante altre voci sono state ridotte in termini di spesa reale quindi c'è stata un'attività abbastanza marcata di contenimento della spesa pubblica io ho detto 2% tra il 2009 e il 2014 in Italia nello stesso periodo la spesa in Germania è aumentata del 13% la spesa in Finlandia è aumentata del 17-18% quindi siamo stati molto virtuosi soprattutto nel 2010 11-12 un po' meno nel 2013 e nel 2014 però ci sono stati ulteriori risparmi anche nel 2015 il 2016 non è ancora finito vedremo a che punto saremo secondo me però c'è ancora molto che deve essere fatto c'è ancora parecchio che può essere fatto in termini di risparmio della spesa tenendo conto che noi abbiamo del fatto di avere un vincolo di bilancio molto stretto in due dimensioni la prima è che il debito pubblico rimane troppo alto in Italia anche su questo ho scritto un libro che è uscito quest'anno a fine marzo di quest'anno sul debito pubblico il debito pubblico in Italia è ancora è troppo alto non è ancora cominciato a scendere rispetto al PIL e costituisce un peso che noi ci portiamo dietro e che ci espone al rischio di una ripetizione di una crisi simile a quella del 2011 e del 2012 e che comunque credo rallenti il processo di crescita dell'economia italiana e abbiamo anche un altro peso che è molto importante è quello della tassazione le tasse di aliquote di tassazione sono troppo elevate in Italia sappiamo che sarebbero più basse se ci fosse meno evasione però l'evasione fiscale è difficile da combattere quindi abbiamo due pesi uno è il debito pubblico l'altro quello di aliquote di tassazione troppo alte l'unico modo per risolvere questo problema in modo duraturo secondo me è appunto controllare l'andamento della spesa e non credo non si stia facendo abbastanza anche se ci sono stati dei progressi ci sono tante cose che vorremmo fare con la spesa pubblica che sarebbe utile fare la domanda di nuovo è se ce lo possiamo permettere in questo momento ecco io mi fermerei qui ho parlato per un po' troppo 40 minuti però spero di non avervi annoiato grazie per l'attenzione bene molto grazie per l'intervento che penso sia pieno di spunti e di riflessioni e direi di passare la parola alla collega Colombo per alcuni interventi qualche riflessione in merito poi interverrò io e poi velocemente anzi immagino che molti di voi avranno curiosità domande approfondimenti quindi per non togliere tempo a dibattiti in aula che è sicuramente utile bene io e Enrico un po' ci siamo divisi le parti diciamo di discussione rispetto a quello che appunto ci ha proposto come riflessioni il dottor Cottarelli effettivamente come diceva Enrico ci sono tanti anche altri aspetti su cui avremo diciamo piacere di sentire la sua opinione quindi per quel che mi riguarda diciamo ecco interverrò più sulla parte diciamo fondo monetario e poi lasciarne invece Enrico la parte più sul discorso della della pubblica amministrazione visto un po' che abbiamo una platea appunto prevalentemente di studenti in realtà mentre parlava il dottor Cottarelli pensavo che effettivamente fosse visto anche per la giovanità diciamo dei nostri studenti e lui parlava diciamo di quelli che sono il ruolo del fondo monetario internazionale ecco penso sia opportuno in qualche modo chiarire che in realtà il fondo monetario nasce in un contesto completamente diverso e con un ruolo estremamente più importante di quelle che sono diciamo il ruolo diciamo che ci ha descritto il dottor Cottarelli perché in qualche modo veniva da chiedersi ma come mai è stato messo in piedi un'istituzione internazionale che fa le cose che diceva che diceva lui forse un po' poco in realtà ecco il fondo monetario internazionale è un'istituzione che nasce alla fine della seconda guerra mondiale e sono le grandi istituzioni che nascono proprio nella diciamo ripresa dopo il conflitto mondiale proprio per con l'obiettivo di garantire la stabilità del sistema monetario internazionale e quindi in qualche modo proprio in un'ottica che è profondamente diversa da quella che viviamo nella nella nostra esperienza attuale ma proprio ecco come in un'ottica di multilateralismo dove in realtà appunto il controllo e la diciamo la garanzia della stabilità del sistema monetario internazionale viene affidata a queste grandi istituzioni quindi in realtà delle istituzioni che hanno un ruolo nell'ambito del sistema monetario internazionale molto significativo per tutto il periodo insomma fino diciamo all'inizio degli anni 70 ecco quindi questo è quello che era il fondo monetario internazionale poi in un qualche modo dall'esperienza dalla fine del sistema di Bretton Woods in qualche modo il fondo monetario internazionale è dovuto un po' reinventarsi in qualche modo diciamo un ruolo ecco un po' quello che diceva appunto ci raccontava prima il dottor il dottor Cottarelli ecco questi diciamo compiti che gli sono stati affidati e in qualche modo in particolare ecco questo diciamo ruolo di assistenza finanziaria diciamo ai paesi in difficoltà e di sorveglianza in qualche modo questo è andato avanti nei decenni ecco io ricordo insomma che in realtà prima della grande crisi in qualche modo serpeggiava anche un po' se ricordate forse anche sui giornali ma cosa ci sta a fare il fondo monetario internazionale voglio dire in qualche modo il fondo monetario è obsoleto ecco quindi in qualche modo perché dobbiamo tenercelo insomma quindi in qualche modo ecco ecco sicuramente voglio dire c'è dopo l'esperienza naturalmente poi lo scoppio della crisi diciamo della grande crisi della grande crisi finanziaria in qualche modo voglio dire il fondo monetario poi ha acquisito del diciamo un ruolo ancora una volta forse più anche più significativo e anche ha subito un po' ce lo ricordava prima anche un processo di riforma diciamo proprio nella sua diciamo composizione che in qualche modo questo era uno anche degli altri diciamo problemi diciamo significativi il fatto insomma che in qualche modo fosse molto concentrato su Europa e Stati Uniti rispetto diciamo agli altri paesi emergenti ecco riguardo ecco a questo grande tema che è un po' il mio compito insomma avevo pensato proprio in qualche modo ecco proprio alla luce un po' di questo quesito diciamo ma cosa ci serve effettivamente il fondo monetario internazionale in qualche modo ecco proprio l'opportunità che abbiamo insomma di avere qui il dottor Cottarelli è proprio che appunto un'esperienza veramente di lungo corso nell'ambito del fondo monetario internazionale e anche poi adesso poi in particolare rilievo un po' ecco il quesito ecco che ci si pone questa attività di un po' ecco un po' come stimolo e come diciamo quesito ecco si parla appunto di questa attività di sorveglianza dei paesi membri queste visite annuali che il fondo fa ai paesi che formula questi report insomma ecco un po' ecco mi sembrava forse potesse essere interessante un po' la sua esperienza ecco su questo tipo di attività per quanto riguarda il nostro paese è servita qualcosa ci ha aiutato come è stato voglio dire com'è concretamente ecco quello che l'esperienza ecco in qualche modo di questa qual è diciamo poi stato il contributo che in qualche modo questa attività ha dato diciamo in particolare al periodo agli ultimi anni e al periodo di crisi per il nostro paese e l'altro quesito un po' su cui volevo diciamo un po' avere qualche diciamo riscontro è anche in fondo il fondo monetario internazionale è stato coinvolto in prima persona a fronte della crisi dei debiti sovrani insomma ecco qual è stato in fondo poi il contributo specifico non tanto diciamo dal punto di vista economico ma quando come visione di soluzione della crisi rispetto a quello che è il messaggio e quelle le indicazioni che emergevano da parte della comunità europea in qualche modo che cosa ecco ecco non so quanto ecco questo spostamento a sinistra del fondo monetario internazionale che ci veniva ecco descritto ecco forse nella pratica possa ecco possa essere così evidente come ce lo proponeva il dottor Cottarelli però ecco in qualche modo che cosa ecco il fondo monetario in questa esperienza ecco effettivamente un altro grande ecco tema che poteva essere su cui non so quanto tempo ci sia da dedicare nell'incontro di oggi è proprio la strategia di uscita diciamo dalla crisi sia del nostro paese intendo proprio come crisi macroeconomica e degli altri paesi in particolare del sud europeo ecco non c'è stato modo ecco di ascoltare però su questo penso che effettivamente un qualcosa ci farebbe molto piacere averla in particolare un quesito riforme ruolo delle riforme strutturali cioè questo in realtà è il grande messaggio che ci chiedono fate le riforme strutturali e tutto tornerà a posto ricomincerete a crescere a parte diciamo posizioni autorodosse mi sembra che in qualche modo anche recentemente guardavo un articolo sul Journal of Monetary Economics del 2014 che ha un quesito pone il quesito Can structure reform help Europe quindi in qualche modo il problema è che se le riforme strutturali avranno un effetto positivo nel lungo periodo o forse come dice Keynes nel lungo periodo saremo tutti morti e quindi come ci arriviamo ecco quindi un po' il problema insomma della effetti delle delle riforme strutturali nel breve periodo in qualche modo come la loro capacità di sostenere diciamo una ripresa economica di cui abbiamo la necessità perché quando si parla di un rapporto debito PIL che cresce in realtà il problema è anche al denominatore non solo al numeratore quindi il problema è voglio dire come paesi dove la crescita è più elevata sono in grado di sostenere dei livelli di debito più elevati quindi insomma in qualche modo ecco questi quesiti insomma vorrei insomma in qualche modo perché credo che veramente abbiamo l'idea insomma di avere ecco una persona con questa lunga esperienza al fondo monetario ci aiuti a capire insomma che cosa effettivamente quali sono le strategie di uscita mi fermo qui ma insomma poi perché ci piace insomma poi un po' l'idea di questa discussione rispondo su questa parte allora rispondo magari su questi tre punti di queste tre domande l'esperienza sulla sorveglianza del fondo monetario sull'Italia io sono stato anche capo missione capo delle missioni del fondo monetario in Italia tra il 2002 e il 2004 ha fatto tre missioni questo non sarebbe più possibile attualmente perché Christine Lagarde quando è arrivata al fondo monetario ha deciso per evitare conflitti di interesse che un italiano non potesse essere capo missione in Italia ma sono più cattivi gli italiani con gli italiani sì ma conflitti di interesse vale anche nell'essere più cattivi quindi per avere un giudizio per avere un giudizio che non è influenzato da qualunque alta considerazione Christine Lagarde ha deciso di evitare questa cosa fra l'altro c'era una tradizione in Italia di capo missioni in Italia ma cosa devo dire sulla sorveglianza in Italia è chiaro che attualmente l'Italia è molto più preoccupata di quello che dice la commissione europea di quello che dice il fondo monetario questo perché ovviamente le opinioni della commissione europea sono opinioni che hanno dirette implicazioni per le regole e il funzionamento delle regole di finanza pubblica in Europa e quindi per le decisioni di bilancio in generale questo lo dico sinceramente magari molti dei miei colleghi al fondo monetario non sono d'accordo l'attività di sorveglianza per l'Italia e per gli altri paesi è sempre stata un po' problematica per il fondo monetario perché è un'attività che non ha un potere di coercitivo diciamo molto rilevante quando il fondo monetario svolge un ruolo importantissimo in termini di decisioni di politica economica per i paesi cui il fondo monetario fa prestiti perché li fa come ho detto con questo meccanismo di condizionalità per cui i prestiti sono erogati in varie tranches via via che certe condizioni vengono certe riforme certe azioni vengono prese dai governi quando si fa sorveglianza può essere un'attività più o meno utile ma comunque qualche cosa che ha un effetto molto meno immediato e evidente sulle decisioni lo strumento che in qualche modo aiuta il fondo monetario ad avere più un effetto maggiore facendo l'attività di sorveglianza è appunto la trasparenza perché i politici diciamo i governi sono molto attenti a quanto poi i giornali riportano di quello che ha detto il fondo monetario e così via però sinceramente è rispetto all'attività di programma di prestiti e di programma del fondo monetario l'attività di sorveglianza è comunque un'attività che è meno ha un impatto molto meno rilevante sulle decisioni dei paesi in Italia e all'estero in alcuni paesi conta di più in altri conta di meno però la sostanza è che se un paese non ascolta quello che viene detto dalla missione o dal board del fondo monetario non succede niente se non in casi estremi come ci sono stati casi estremi in linea di principio ci sarebbe teoricamente c'è la possibilità che il fondo monetario imponga dalle sanzioni a paesi che non sono in linea con le raccomandazioni del fondo monetario nell'ambito date nell'ambito di un'attività di sorveglianza perché l'attività di sorveglianza di questo monitoraggio formalmente è un'attività in cui il fondo monetario vede se il paese è in linea con i propri obblighi che derivano dall'articolo 4 dello statuto del fondo monetario infatti queste consultazioni si chiamano article 4 consultations adesso non voglio entrare troppo nei dettagli ma l'articolo 4 del fondo monetario impegna i paesi ad avere delle politiche economiche volte all'equilibrio del sistema e alla crescita indirettamente quindi un paese ha degli obblighi verso il fondo monetario e la comunità internazionale che derivano da questo articolo 4 in pratica l'attività di sorveglianza non copre in realtà non ha nessun valore coercitivo o legale secondo problema il contributo del fondo monetario alla situazione della crisi rispetto all'Europa è cambiato davvero il fondo monetario rispetto al passato è cambiato molto rispetto alla Grecia uno dei e questo è un problema di comunicazione che per qualche motivo il fondo monetario non riesce a comunicare il dibattito tra il fondo monetario e l'Europa sulla Grecia verte proprio sulla quanto le politiche fiscali devono essere strette in Grecia rispetto a quello che si potrebbe fare se si ristrutturasse il debito pubblico il fondo monetario dice la Grecia ha un obbligo con l'Europa di raggiungere un surplus primario del 3,5% il fondo monetario dice no è troppo alto il 3,5% 1,5% è sufficiente quindi questo è un evidente caso in cui il fondo monetario è molto meno restrittivo della commissione europea ovviamente poi c'è un vincolo di bilancio e come si risolve il vincolo di bilancio il fondo monetario dice allora ci vuole la cancellazione del debito questo fatto che il fondo monetario è diventato in maniera estremamente in maniera molto più forte che in passato un solo estenitore della necessità di cancellare il debito di chi ha preso prestito è una cosa che non è stata percepita che è in qualche modo rivoluzionaria e non è stata percepita dall'opinione pubblica c'è un libro molto interessante scritto da uno dei fondatori di Occupy Wall Street si intitola debito 5.000 anni di storia che si apre proprio a pagina 2 l'autore definisce il fondo monetario come l'equivalente di a livello privato di quello che viene e ti spacca le gambe perché non hai pagato i tuoi debiti questa cosa a parte essere poco carina da dire non è proprio per niente vera non è più vera ormai il fondo monetario molto spesso e secondo me anche molto più spesso di quanto dovrebbe fare sostiene che per risolvere i problemi dei paesi bisogna cancellare il debito questo non soltanto nel caso dei paesi a reddito basso ma anche nel caso della Grecia la Grecia è comunque un paese avanzato in termini di livello di reddito pro capite fra l'altro per una piccola parola il reddito greco pro capite è sceso negli ultimi anni è a livello però della fine degli anni 90 perché negli anni precedenti la crisi era cresciuto a un tasso medio del 4% ogni anno in termini di reddito pro capite la Grecia è tornata indietro di 20 anni come peraltro è tornata indietro di 20 anni l'Italia quindi nel caso della Grecia c'è un'evidente posizione molto più benevola del Fondo Monetario rispetto alla Commissione Europea c'è però una cosa da dire che è facile in qualche modo per il Fondo Monetario dire questo perché quando dice cancelliamo il debito parla di cancellare il debito degli altri creditori non il debito che la Grecia ha nei propri confronti nei confronti del Fondo Monetario perché il Fondo Monetario ha questo status di preferred creditor che è riconosciuto dalla comunità internazionale per cui i prestiti del Fondo Monetario sono i primi ad essere ripagati infatti il Fondo Monetario non ha mai perso niente sui prestiti che fa fondamentalmente quindi in qualche modo è facile per il Fondo dire cancelliamo il debito bisogna cancellare il debito come tanto è il debito di altri creditori in questo caso è il debito degli europei il Fondo Monetario dice gli europei devono cancellare i loro crediti verso la Grecia questi sono anche soldi nostri come contribuenti italiani però il cambiamento c'è stato come c'è stato un cambiamento per quanto riguarda il terzo punto come uscire dalla crisi rimane la raccomandazione tradizionale di fare riforme strutturali supply side reforms e così via però c'è anche una raccomandazione di sostenere il lato della domanda quindi per politiche monetarie molto espansive e per i paesi che hanno spazio fiscale questa è la parola chiave paesi che se lo possono permettere di aumentare anche il deficit pubblico cosa che il fondo non aveva mai detto prima del 2008 2009 mentre adesso si riconosce che anche ai fini se non proprio come strategia di risoluzione al problema del debito pubblico si dice che in alcune situazioni in alcuni casi un aumento della spesa pubblica si autofinanzia nel senso che c'è stato un paper di recente del fondo monetario in cui ci sono simulazioni che fanno vedere che se un paese aumenta la spesa pubblica dopo 5 anni il rapporto tra debito e PIL non è aumentato ma si è ridotto proprio per questo effetto sulla crescita reale ma anche sull'inflazione sinceramente io credo che il fondo monetario stia esagerando in questa cosa fra l'altro lo dice per tanti paesi ma per l'Italia invece continua a dire che no in Italia non c'è spazio fiscale quindi diciamo i moltiplicatori funzioni sono troppo bassi e quindi quello che bisogna fare è comunque stringere la politica fiscale più ancora di quello che intendeva fare il governo nell'aprile scorso poi le cose sono cambiate come la legge di bilancio attuale ma quindi c'è comunque una differenza per l'Italia ma in generale il fondo monetario è diventato molto più espansivo come modo per risolvere i problemi dell'Europa di quanto fosse una volta a livello europeo ci sono alcuni paesi in cui io penso e il fondo monetario pure pensa che dovrebbero espandere di più la propria politica fiscale ma si tratta fondamentalmente della Germania però la Germania rispetto a tutta l'Europa rimane abbastanza piccola all'interno del fondo c'è comunque una discussione abbastanza accesa su quanto continuano le riforme strutturali rispetto alla domanda al lato della domanda quindi dibattito in corso un cambiamento accestato io anzi penso che in alcuni casi si vada addirittura il fondo monetario si stia esagerando nel nel minimizzare nel nel pensare che si possa risolvere i problemi attraverso un'espansione della domanda aggregata non so se Caterina ha i ulteriori spunti e se non ve ne sono direi che io partirei dalle mie riflessioni molto brevi proprio da questo punto il debito pubblico che di fatto ormai dagli anni 80 in poi è sempre diventato un po' la motivazione da una parte per avviare riforma della pubblica amministrazione vista come appunto eccessivamente costosa a luce di sia sprechi ma anche come veniva detto mancanza di scelte di priorità cosa serve cosa non serve e dall'altro inefficace quindi che non riesce a supportare quello che è lo sviluppo economico attraverso un'eccessiva burocrazia oltre che un intervento talvolta eccessivo del pubblico in alcune aree in cui invece magari il privato potrebbe più efficacemente ed efficientemente svolgere il proprio ruolo il debito pubblico appunto come sappiamo come c'è stato detto ricordato rappresenta un po' il motivo per cui l'Italia è in questi anni un po' diversa da tutti gli altri motivo per cui sono avviate le cosiddette politiche dell'austerità dagli anni 2010 alcuni lo fanno risalire al G20 di Toronto appunto nel 2010 in cui ci fu un consenso generale a livello soprattutto europeo di avviare politiche dell'austerità supportati poi da studi per cui soprattutto a beneficio degli studenti che vogliono documentarsi i lavori di Reinhard e Rogoff del 2010 poi confutati da altri ma poi ripresi dagli studi di Alesina e colleghi i cosiddetti Bocconi Boys utilizzati dai giornali dei media e che appunto associavano le politiche di austerità come un volano per la crescita o comunque da cui poter ripartire per la crescita da cui il supporto le motivazioni di politiche soprattutto in Europa nei paesi dell'euro in particolar modo di riforme strutturali di contenimento della spesa pubblica il dottor Cortarelli ci ha fatto vedere come siamo stati abbastanza bravi un meno 7-8% in termini reali vuol dire che di spesa primaria significa che sicuramente l'Italia ha cercato di andare verso il contenimento della spesa ricordiamo anche che l'Italia negli ultimi 15 anni ha un saldo di spesa un saldo primario positivo penso che sia tra gli unici in Europa il saldo primario è la differenza tra le spese correnti prima degli interessi è chiaro che c'è un debito importante e quindi poi il deficit è causato dal fatto che paghiamo gli interessi un altro elemento che spesso magari non ce ne accorgiamo ma nel periodo cruciale della crisi quindi parliamo 2008-2009 l'Italia doveva rifinanziare circa 700 miliardi di debito pubblico di cui molto spesso circa il 40% in mano estera quindi il rischio di non vedersi rifinanziato il 40% del debito ovviamente metteva l'Italia una forte pressione infatti ci veniva ricordato che rischiavamo nel 2008-2009 dopo 2010-2011 di andare dentro un processo di sostegno da parte del Fondo Monetario Internazionale da qui appunto due temi che hanno motivato ripeto da anni il dibattito alla pubblica amministrazione uno la riforma della pubblica amministrazione se ne parla dagli anni 90 tantissime riforme dalle riforme Bassanini alle ultime riforme riforma cosiddetta Brunetta e l'ultima la riforma Madia che è ancora in attuazione con la quale si cerca di rendere più efficiente più efficace il funzionamento della pubblica amministrazione la pubblica amministrazione esisterà sempre anche negli Stati Uniti la pubblica amministrazione ha un ruolo significativo il problema è appunto cosa produce che impatto ha poi sulla società e sull'economia e sulla vita di tutti i giorni dall'altro la spendi review quindi la revisione della spesa anche questa è più recente nell'esperienza italiana il primo tentativo fatto da Prodi nel 2006 all'epoca fu nominata una commissione tecnica che produsse un libro verde è anche disponibile ancora su internet per chi di voi fosse interessato con l'epoca il presidente era Muraro c'era Perotti dentro e c'era magari alcuni nostri studenti se lo ricordano il professor Pola che è stato nostro preside di economia ora in pensione ma è ancora nostro docente nei nostri corsi fa degli interventi seminariali per cui del 2006 i risultati furono molto limitati e poi arriviamo a Monti il governo Monti all'epoca fu caricato Giarda come consulente poi fu nominato il primo commissario per la revisione della spesa C'è Bondi e poi arriviamo al governo Letta e il governo Renzi ricordo che il documento di Cottarelli tra l'altro ringrazio perché citò un mio lavoro che feci con un collega Ciro Darius sull'analisi della banca dati per l'APA sulle partecipate in cui analizziamo un po' di dati e da qui lo spunto importante e utile che non dobbiamo mai confondere la trasparenza con l'accountability il fatto di aver dati non vuol dire niente perché se poi i dati sono illegibili e incomprensibili è come non averli anzi si crea un rumore informativo di fondo e invece il tema è far sì che siano intellegibili chiari comprensibili usarli e questa è la parte più difficile dicevo quel rapporto nel triennio ipotizzava di arrivare a 33 miliardi circa di risparmi potenziali e dove sono finiti questo poi chiederemo una domanda ma la domanda specifica è spendire view ha una dimensione tecnica e di bravi tecnici l'Italia ne è piena qui ne abbiamo un esempio che quindi sono in grado di fare le analisi dei dati sono in grado di proporre ipotesi dov'è la dimensione politica e quindi da questo punto di vista una riflessione sul sul ruolo della dimensione politica per poi rendere effettive quelle che sono le ipotesi o comunque le proposte tecniche esistenti spendire view l'altro aspetto rischia molto spesso di essere venduta o meglio i cosiddetti tagli lineari e la riduzione il contenimento della spesa spesso viene venduta come spendire view infatti il meno 7-8% in termini reali è se vogliamo può essere venduta come una spendire view ma effettivamente spendire view e qui ritorniamo al fatto che spendire view non può essere fatta se non con una capacità di analisi dei dati e quindi di valutazione quali quantità attiva della spesa arrivando idealmente a quell'impostazione che veniva citata di performance budgeting cioè di gestione del bilancio sia in ottica previsionale ma poi anche in ottica di controllo successivo basato su i risultati che una determinata spesa pubblica ha generato e valutando quindi in quel caso se tagliarla o meno in funzione dei risultati che ottiene in funzione delle priorità che si ottengono da qui un tema proprio sul performance budgeting e qual è effettivamente la cosa manca ancora in Italia per poter implementare introdurre un sistema di performance budgeting quantomeno a livello governativo non spingiamoci fino a livello magari di enti locali dove chiaramente le strumentazioni le competenze diventano più difficili spesso da individuare quindi un tema centrato sul performance budgeting il potenziale soprattutto cosa manca per poter essere introdotto come fatto nell'esperienza inglese che veniva citata ma anche in altre esperienze un'ultimissima riflessione riguarda poi il rischio di cortocircuito tra due aspetti che venivano prima citati uno l'obiettivo di ridurre il debito pubblico dall'altro necessità di sostenere la crescita è vero io mi sono fatto il lavoro recettivamente sull'austerità sulle politiche di austerità l'FMI è forse il meno intransigente rispetto all'austerità in confronto a Germania Finlandia o altri paesi europei quindi se fosse per il Fondo Monetario Internazionale forse saremmo in migliori mani come politiche europee da questo punto di vista però ecco alla fine si richiedesse una domanda senza una risposta cioè come facciamo come Italia intendo nel contempo a ridurre il debito pubblico ma al tempo stesso a sostenere la domanda quindi al di là dei sostegni sull'offerta quindi sul lato offerta sostenere la domanda attraverso quali leve o strumenti o in alternativa quali sono eventuali ipotesi di modalità di riduzione del debito pubblico che finora non abbiamo contemplato e considerato e che magari invece potrebbero essere in futuro utili grazie di nuovo qui ci sarebbe da parlare per tutto un pomeriggio quindi cercherò di rispondere a alcune di queste domande partendo dal tema dell'austerità io nel mio libro il macigno quello che è uscito a fine marzo sostengo che un po' di austerità ci tocca io mi sono convinto che adesso si sta esagerando nel parlare male dell'austerità ho falato nel libro ricordo i famosi discorsi di Berlinguer negli anni 70 quando si lodava l'austerità come principio di vita l'austerità fiscale c'è l'idea che un vincolo di bilancio c'è che bisogna rispettare un vincolo di bilancio sia una cosa di sinistra e non di destra mi sembra assurdo un vincolo di bilancio è una cosa di account di contabilità ci sono politici di destra che non hanno nessun interesse per il debito pubblico Ronald Reagan diceva che il debito pubblico è grande abbastanza da prendersi cura da solo di se stesso risolveva la questione in questo modo infatti quando Reagan è stato presidente il rapporto tra debito pubblico e PIL negli Stati Uniti è aumentato del 20% in 8 anni adesso si parla tanto male dell'austerità i nostri miei colleghi tedeschi a fondo monetario mi fanno notare che quando l'austerità quando si ha un debito pubblico 133% del PIL non si capisce bene dove sia stata l'austerità ora l'austerità non troppa austerità fa male l'ho scritto nel 2012 può essere controproducente può portare a una crisi se si stringe troppo la spesa pubblica se si riduce troppo rapidamente il deficit io sono per una risoluzione del problema del debito pubblico che è quella che chiamo un moderato grado di austerità abbiamo un po' di crescita non ce n'è tanta ma un po' di crescita c'è la cosa fondamentale è resistere alla tentazione di aumentare le spese in linea con questa crescita la crescita c'è fa aumentare le entrate dello Stato dobbiamo risparmiare un po' delle entrate maggiori che derivano dalla crescita questa non mi sembra una politica io propongo per 3-4 anni finché non si raggiunge il paleggio di bilancio io propongo di congelare la spesa pubblica primaria in termini reali quindi senza tagliare niente in termini reali soltanto congelarla questo dovrebbe portare nel giro di 3-4 anni al paleggio di bilancio se invece quando c'è un po' di crescita e le entrate dello Stato aumentano si aumenta ancora la spesa in misura uguale allora il paleggio di bilancio non ci si arriva mai questo vuol dire che la spesa pubblica o il bilancio pubblico non potrà essere il motore della crescita questo lo riconosco non potrà essere il motore della crescita però non toglierà neanche molto alla crescita allora da dove viene quel po' di crescita anzi la necessità di aumentare il tasso di crescita magari di questo ne parlerò nel pomeriggio in maniera più dettagliata ma il punto fondamentale è che possiamo parlare in generale di riforme strutturali per la crescita eccetera ma dobbiamo renderci conto di quali sono le riforme strutturali che servono secondo me dobbiamo tornare a un processo di crescita che è guidato dalle esportazioni proprio perché non c'è abbastanza domanda aggregata e questo è quello che ha fatto la Germania negli ultimi 15 anni le esportazioni tedesche sono aumentate dal 2000 a oggi del 220% esportazioni di beni e servizi le esportazioni di beni e servizi dell'Italia in termini reali sono aumentate del 20% 220 come 20% allora qualcuno dirà ebbè ma se tutti i paesi cercassero di avere una export led growth ovviamente qualcuno deve importare quindi non è possibile che tutti i paesi abbiano una export led growth una crescita condotta dall'esportazione a me non mi interessa di tutti i paesi io sto parlando dell'Italia che fra l'altro ha avuto per decenni un processo di crescita guidato dalle esportazioni per poter avere un processo di crescita guidato dalle esportazioni dobbiamo recuperare competitività noi abbiamo perso dopo l'entrata dell'euro competitività rispetto agli altri paesi europei e soprattutto rispetto alla Germania fra l'altro con questa muovendosi in questa direzione potremmo per esempio ridurre la Germania a un surplus di partite correnti dell'8% del PIL non è mica una costante universale non è una regola fisica del mondo che ci debba essere per la Germania se noi diventiamo più competitivi riusciremo a portare i ruoti di mercato anche alla Germania quindi risolviamo anche il problema degli squilibri interni della Germania quindi tutte le riforme che possono portare a una maggiore competitività compresa anche una riforma della pubblica amministrazione che rende la pubblica amministrazione più efficiente servono anche perché l'efficienza del settore privato dipende anche dall'efficienza della pubblica amministrazione servono anche a questa cosa ma a rendere a far aumentare la crescita delle esportazioni dell'economia italiana però fondamentalmente bisogna rispondere alle domande per fare la politica per fare delle scelte strategiche bisogna rispondere a queste domande fondamentali da dove vogliamo che venga la crescita e qui invece spesso queste domande fondamentali altra domanda fondamentale qual è il ruolo dello Stato dell'economia qual è il ruolo della spesa pubblica dell'economia non si risponde a queste domande secondo me in Italia si fanno scelte che sono troppo spesso guidate dal contingente dall'obiettivo che si vuole raggiungere nei prossimi sei mesi senza definire quali sono le strategie di fondo secondo me in Italia bisogna tornare a una crescita guidata dalle esportazioni non per sempre poi con la crescita ovviamente poi la domanda interna riprende però il motore deve venire dal settore dal settore anche se l'economia non mondiale non cresce molto per esempio portando via quote di mercato alla Germania che è un surplus stop noi ci lamentiamo del surplus della Germania il surplus della Germania riflette anche la mancanza di competitività degli altri paesi la Germania ha migliorato la propria competitività dopo le riforme dell'inizio della scorsa decada ora sul un po' di altri punti altre domande che sono state sollevate quanto si è risparmiato allora questo torna alla polemica tra Goodgel e Perotti io ho fatto un lavoro dettagliato bottom up partendo da misura per misura tra il 2014 io vi ho detto la polemica è se i risparmi siano stati 25 miliardi oppure zero i 25 miliardi si riferiscono al periodo 14 15 16 il governo dice 25 miliardi perotti dice zero io ho fatto un lavoro dettagliato per il 2014 e il 2015 per quei due anni il governo dice i risparmi sono stati 18 miliardi perotti dice zero 18 miliardi i miei numeri danno 12 miliardi questa differenza tra 12 miliardi lordi poi ci sono stati 4 miliardi di aumenti di spesa si scende a 8 miliardi di risparmi netti cui bisogna sottrarre altri 2 miliardi in conseguenza della decisione della Corte Costituzionale sulle pensioni presa più o meno un anno un anno fa i numeri sono 12 miliardi di risparmi lordi il governo dice 18 perché il governo dice 18 perché nel calcolare il 18 prende tutte le linee che hanno un segno meno nel cosiddetto allegato 3 delle leggi di bilancio l'allegato 3 è un documento pubblicato preparato dalla ragioneria generale dello Stato che dice voce per voce comma per comma quali sono le conseguenze per il bilancio dello Stato di certe decisioni prese nella legge di stabilità la legge di bilancio come la si chiama attualmente allora perché questo tende a gonfiare i tagli di spesa perché se io per esempio ho un fondo per l'assistenza non so degli anziani che spende un miliardo e un fondo per l'assistenza dei bambini che spende un miliardo e creo al posto di questi due fondi un unico fondo che si chiama fondo di assistenza degli anziani e dei bambini questo contabilmente risulta come un meno un miliardo e meno un miliardo compensato da un più due miliardi ecco i 18 miliardi del governo vengono fuori sommando tutti questi segni meno quindi ovviamente ci sono anche delle cose che non sono veri sparmi di spesa ma sono tanto riclassificazioni rifacendo il calcolo eliminando queste cose secondo me i tagli sono comunque abbastanza rilevanti tra il 14 e il 15 12 miliardi poi però sono aumentate le spese per 4 miliardi si scende a 8 miliardi e poi effetto della sentenza costituzionale si arriva a 6 miliardi che sono più o meno uno 0,4% del PIB nel 14 e il 15 il 16 non l'ho fatto il calcolo il governo dice di lodo ci sono altri 7 miliardi però secondo me lì c'è molto meno di netto nel 2016 poi il 2016 dice non si è ancora concluso questo per chiarezza dei numeri il ruolo della politica nella revisione della spesa il ruolo della politica è ovviamente fondamentale di nuovo questo mi riporta al discorso precedente il ruolo della politica è anche quello di definire quali dovrebbero essere le linee guida principali di una revisione della spesa quando io sono arrivato in Italia l'impressione che ha avuto era quella che la revisione della spesa fosse dottor Cottarelli vada in giro e dica dove ci sono degli sprechi no la revisione della spesa deve basarsi su un governo che dice la nostra priorità è ottenere 10 miliardi per esempio per ridurre le tasse e per ridurre il debito riteniamo che le nostre priorità siano spese per la difesa spese per la pubblica istruzione spese per la sanità le altre hanno meno priorità dottor Cottarelli ci vada a dire qual è il modo migliore per risparmiare 10 miliardi tenendo conto di questi vincoli questo non viene non viene fatto quando ho iniziato il lavoro ho insistito perché il governo pubblicasse questo documento di guida della revisione della spesa in cui si parlava appunto di un obiettivo di risparmio di 32 miliardi però ho insistito io non c'era nessuna non c'era davvero un sostegno politico a questa idea di fare la revisione della spesa come? si lo schietta io quella mozza naturalmente si lo schietta io per cui ecco il ruolo della politica è di dare le linee guida principali e poi definire quali sono le priorità quali sono i principi generali che per un governo che un governo seguirà nel prendere delle decisioni sulla spesa senza questi principi generali la conseguenza è che se magari al mattino si taglia una spesa nel pomeriggio si aumenta un'altra spesa dello stesso tipo pensando che comunque è una spesa nuova quindi va bene no non è vero i principi che si applicano alla spesa che già esistono vanno applicati anche alle nuove proposte di spesa tagli lineari sono spendi in review no non sono spendi in review però io non demonizzerei i tagli lineari delle volte non si può andare troppo per il sottile come si dice quando c'è da trovare dei risparmi un taglio lineare per esempio è quello di congelare il turnover in parte della pubblica amministrazione cosa che si è fatta in Italia ha portato a una riduzione dell'occupazione del settore pubblico che secondo me dal punto di vista strutturale va bene perché c'erano troppi occupati pubblici nel settore pubblico in Italia secondo me ce ne sono ancora troppi nel settore pubblico in Italia il governo ha un'opinione diversa in proposito questo è stato fatto con il blocco del turnover blocco parziale non completo la scuola esclusa dal blocco del turnover per esempio per qualche strano motivo anche i diplomatici sono esclusi tant'è vero che l'età media dei diplomati i diplomati si sono ringiovaniti l'età media dei diplomatici si è ridotta negli ultimi anni però per i ministeri per esempio il blocco del turnover è stato piuttosto pesante questo è un modo lineare il modo in cui bisognerebbe fare la riduzione dei dipendenti pubblici andare a dire in questo settore ci sono troppi dipendenti pubblici allora blocchiamo il turnover in questo settore mentre il blocco è stato differenziato secondo i settori ma differenziato per motivi politici essenzialmente non perché ci fosse un'analisi che dicesse in questo settore ci sono troppi o troppo pochi dipendenti pubblici e l'ultima domanda che cosa manca per il performance budgeting in Italia beh fondamentalmente qui mi butto sul sul banale manca una cultura del performance budgeting cioè proprio non esiste dipendente pubblico dovrebbe infatti bisognerebbe cominciare con un'educazione di che cos'è il performance budgeting perché è importante la misurazione dei risultati e questo richiede un processo molto lungo quindi io non ho la speranza che in Italia si possa fare una spending review basata sul performance budgeting prima dei prossimi probabilmente dieci anni questo non vuol dire però che non si possa fare risparmi di spesa abbastanza mirati prima di aspettare dieci anni naturalmente grazie e direi che tra l'altro è il giusto lancio visto che qui in aula abbiamo i nostri studenti del master perfect e che quindi sono formati sono studenti neolaureati piuttosto che studenti lavoratori di pubblica amministrazione ma anche poi anche privati proprio sui temi della gestione della performance quindi diciamo cerchiamo di essere nella frontiera di discussione di queste tematiche anche se poi nella pratica purtroppo manca la cultura ma noi cerchiamo di dare un contributo in creazione di risorse umane in grado di gestire questi processi di innovazione che speriamo arriveranno ora abbiamo intervento altro intervento ultimo intervento programmato rappresentato del nostro rappresentato degli studenti per cui prego prova sì allora buongiorno a tutti buongiorno dottor Cottarelli ci siamo già presentati io sono Enrico De Vito sono un studente del secondo anno della laurea triennale di economia qui a Ferrara e sono il rappresentante degli studenti io ho letto il suo libro sul debito pubblico del macigno e mi ha colpito tanto mi ha spinto a scrivere le riflessioni che ci tenevo oggi a leggere in sua presenza in presenza dei miei compagni di corso che ho fortemente voluto a questo incontro e a queste riflessioni poi culmineranno delle domande che volevo porle personalmente allora vorrei innanzitutto a nome di tutti gli studenti di cui mi faccio portavoce ringraziarla ancora una volta per la sua egregia presenza e per la sua grandissima e manifesta disponibilità ci tengo a spendere le mie parole di gratitudine da parte di noi studenti anche nei confronti del presidente Gian Paolo Barbieri impegnato attivamente nell'organizzazione di questo incontro e verso l'università di Ferrara impersonata oggi soprattutto nelle figure del progettore il professor Enrico Gagliardo De Hidda del professor Enrico Bracci della professoressa Caterina Colombo e del dottor Sandro Manzatorta poi ci teniamo a fare un ringraziamento particolarmente sentito e speciale nei confronti del mio amico Benedetto Cavicchi uno studente di Trento ma ferrarese di origini che ha funzionato da tramite tra noi e lei e dottor Cottarelli adoperando da iniziatore di questo incontro e ad Elia Frignani rappresentante degli studenti di Trento che ha avuto oggi il piacere di conoscere estrema manifestazione di quell'attivismo accademico che anch'io vado cercando dato che lui è stato per primo ad osare ad entrare in contatto in diretto con lei dottor Cottarelli che si è mostrato sempre entusiasta di incontrare noi giovani speranza del futuro futuro da aspirante economista questa parola tendo ad abbinarla l'incertezza l'incertezza che influenza la credibilità del futuro stesso cosa è la credibilità? la parola credibilità spaventa gli italiani almeno negli ultimi anni poiché tendono a collegarla ai mercati finanziari nostri possibili speculatori a causa di quel debito pubblico che ci sovrasta questa è oggi l'Italia soggetta ai humor dei mercati finanziari nostra spada di Damocle e ad al peso del debito pubblico nostro grosso macigno eppure c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole andiamo avanti tranquillamente così proprio lei inizia il suo libro il macigno citando De Gregori in un ralone di fiducia e di buoni presentimenti nonostante il debito pubblico italiano ammonti da una cifra astronomica infatti le cita ci sono 100 miliardi di stelle nelle galassie ed è una cifra minore del debito pubblico oggi ammontabile a più di 2000 miliardi personalmente mi sono appassionato tanto il suo libro che regala un approccio preciso e semplice nei confronti del macigno della nostra economia come liberarci dal peso di questo macigno come liberarci dal peso del debito pubblico lei analizza le possibili soluzioni offerte da politici ed economisti precisando sin dal principio che 2000 miliardi è un numero sterile se non rapportato al PIL tornare alla lira creerebbe inflazione e signoraggio dannosi per la competitività e per il PIL stesso plasmando una tassa indiretta per i detentori di titoli di Stato che per due terzi sono italiani riputare il debito ripeto i due terzi dei detentori dei titoli di Stato sono italiani significerebbe tassarli e poi lei ci insegna ricordando una locuzio latina pacta servente sunt mutualizzare il debito pura utopia in un'Europa che non ha ancora una forma definita dove i vari partner hanno scarsa fiducia tra di loro cito la crisi greca sarebbe bello sicuramente ma negli USA lo Stato centrale si fa carico dei debiti dei paesi membri lei ci consiglia un pizzico di austerity accompagnata inscindibilmente da un congelamento della spesa pubblica primaria ovvero al netto degli interessi per 3-4 anni e operare riforme strutturali che innalzino il tasso di crescita del nostro PIL ed il rischio politico leggevo ieri un articolo del Sole 24 Ore che parlava di una bolla politica globale che potrebbe ulteriormente destabilizzare i mercati finanziari l'imponderabile rischio politico ha mille sfaccettature proprio in un'Italia che fatica a crescere all'1% e che stenta a far calare in maniera strutturale al proprio rapporto debito-PIL che si attesta ancora al 133% allora le chiedo in che misura il risultato del referendum di revisione costituzionale del 4 dicembre inciderà sul mercato infatti la vittoria del no impensierisce non poco il mercato se dovesse generare come previsto instabilità politica ingovernabilità stop alle riforme strutturali le stesse dalle sperate per ridurre il debito in questo scenario cosa succederebbe al debito pubblico e a tassi di interesse sui diritti di Stato? Ultima domanda che mi che intenta soddisfare una curiosità personale di me elettore a prescindere delle valutazioni in merito del no e del sì che peso hanno le ragioni puramente economiche su quelle politico-sociali e una scelta che modifica l'ordinamento costituzionale? Dunque grazie per questa anche per questo ottimo riassunto del mio libro grazie su queste domande sono domande ovviamente molto di attualità che cosa come inciderà il referendum sul mercato? Sinceramente se ci fosse una vittoria del no ci sarebbe senza altro qualche momento di instabilità sui mercati quanto posso durare questo non lo so perché abbiamo visto anche nel caso della Brexit c'è stata un'enorme volatilità sui mercati per qualche giorno poi le cose sono tornate normali il mio punto però il punto del libro il punto che vorrei fare di nuovo oggi e reiterare che finché il nostro debito pubblico rimane così alto e l'ha ricordato anche lei finché il nostro debito pubblico rimane così alto rimaniamo preda di questi eventi che questa spada di damo questa spada di damo che da un momento all'altro può cadere siamo schiavi dei mercati finanziari il debito pubblico ci crea un'incertezza tale che poi danneggia anche la crescita economica perché se qualcuno si sveglia a Londra o a Francoforte e decide di speculare contro l'Italia lo può fare voi sapete tutta la polemica sulla caduta del governo Berlusconi a fine 2011 ci sono stati gli speculatori hanno attaccato l'Italia è stato un complotto gli speculatori fanno il loro mestiere speccono per farci soldi il problema non sono loro il problema siamo noi che avendo un debito pubblico così alto consentiamo agli speculatori di speculare che poi la speculazione sia causata dal referendum o da qualche altra cosa ci sarà sempre un motivo per speculare per cogliere l'occasione di speculare io vedo per questo l'operazione di riduzione del debito pubblico come una operazione di riconquista dell'indipendenza dell'Italia rispetto ai mercati finanziari noi dobbiamo smettere di essere schiavi del debito l'unico modo per farlo è quello di ridurre il debito pubblico ovviamente ci vorrà del tempo ma è importante che il debito cominci a scendere in maniera tale che quando c'è uno shock se il trend è discendente se c'è uno shock al peggio ci stabilizziamo se invece ci stabilizziamo un debito pubblico dal 133% del PIL non appena c'è uno shock il debito pubblico comincia a aumentare e allora ci prendiamo un'altra dose di speculazione dei mercati finanziari io vedo questa necessità di ridurre il debito pubblico come necessità di riconquista dell'indipendenza nazionale che cosa quanto pesa dal punto di vista lasciando perdere le questioni politiche il referendum sull'economia io non ho fatto in particolare quanto pesa sulla spesa pubblica io non ho fatto studi in particolare il mio amico Roberto Perotti nel suo libro che è pure uscito di recente dice che il risparmio che deriva dal referendum per la gestione della pubblica amministrazione è di circa 150 milioni l'anno quindi non è enorme il governo dice di più di nuovo la differenza è che il governo include nei risparmi anche quello che si risparmia nella gestione delle province Perotti dice ma già attualmente la spesa delle province in pratica si è ridotta in maniera tale per cui il risparmio sarebbe molto limitato per quanto riguarda le province quindi non si tratta di cifre enormi c'è poi l'argomento di chi dice ma la riforma costituzionale avrebbe implicazioni molto importanti per l'economia perché consentirebbe di accelerare l'approvazione di certe leggi questo è un argomento che è più politico diciamo ci vuole un politico per giudicare se è vero che il referendum renderà più facile più rapida l'approvazione delle leggi alcuni dicono di sì altri dicono di no io non voglio entrare non voglio darvi neanche le mie opinioni sul io sono italiano quindi pur vivendo all'estero voterò anche io sì o no però non ve la dico nella mia opinione perché sono un rappresentante del governo italiano in un ente internazionale quindi come è stato detto di recente anche da Tito Boeri presidente dell'Inps e lui è un funzionario pubblico quindi non esprime opinioni sul referendum come i miei colleghi al fondo monetario i rappresentanti inglesi al fondo monetario loro hanno pure una regola formale per cui i dipendenti pubblici non possono dire che cosa voteranno in un referendum grazie ora apriamo alle domande dal pubblico per cui abbiamo un microfono portatile qua che possiamo sfruttare grazie grazie ne approfitto io per fare una domanda già che ci sono io sono benedetto lo studente di Trento di cui parlava prima Enrico e mi era preparato una domanda ma poi ne avrei anche un'altra perché è venuta dal suo discorso sicuramente riprendo lo stesso articolo che diceva Enrico tra l'altro delle 24 ore di ieri che per me è un ottimo spunto di riflessione su come diciamo oggi ci troviamo di fronte a uno scenario di decisioni politiche che verranno prese in futuro che stanno notevolmente destabilizzando i mercati insomma ci troviamo in una fase di grandi incertezze diciamo e viene citato l'esito del referendum la possibilità dell'ascesa di un partito che non piace molto agli investitori magari gli effetti di medio e lungo periodo della Brexit come le future elezioni in Germania eccetera allora la domanda che mi sorge spontanea anche in riferimento al tema della trasparenza che veniva detto del Fondo Monetario Internazionale cioè di come si stia esponendo anche come fa il Fondo Monetario Internazionale oggi come istituzione a farsi portatrice di stabilità in un contesto geopolitico totalmente incerto e se sì cioè sei in grado di farsi portatrice di stabilità in che termini perché mi viene anche in mente come ci fossero state le dichiarazioni del Fondo precedentemente alla Brexit che diciamo non davano una visione rosa della vittoria dell'uscita dell'Unione Europea e poi un poco tempo fa le stime sulla crisi della Gran Bretagna che comunque è notevole e l'altra domanda se vuole rispondere poi vediamo no nel senso se qualcuno può fare delle domande diceva lei che il fondo è molto soggettato al governo degli Stati Uniti come posizione politica e quindi si è avvicinata molto alle posizioni diciamo del Partito Democratico dico l'atteggiamento portazionistico di cui si fa portatore Trump e una sua possibile vittoria come potrebbero modificare l'atteggiamento del Fondo Monetario Internazionale ecco queste sono le mie domande partiamo da questa seconda che più posso rispondere più rapidamente queste sono opinioni personali quindi in linea di principio il Fondo Monetario è completamente indipendente dall'amministrazione americana però resta di fatto che il numero due si parla sempre di una presenza molto importante dell'Europa tra i vertici del Fondo Monetario perché il managing diretto del Fondo Monetario finora è sempre stato un europeo però si dimentica che il numero due è sempre stato un americano e il numero due ha molto più a che fare con la gestione dell'amministrazione del Fondo Monetario anche qui non c'è una relazione meccanica però insomma quando cambia il colore dell'amministrazione americana dopo un po' di tempo cambia anche il first deputy managing diretto del Fondo Monetario sarà un caso ma è sempre stato così se ci fosse eletto Trump probabilmente ci sarebbe qualche anche lì qualche cambiamento magari non immediato ma probabilmente ci sarebbe qualche cambiamento nel numero due del Fondo Monetario internazionale che fra l'altro prima di venire a essere il numero due al Fondo Monetario internazionale lavorava alla Casa Bianca quindi però insomma io vediamo che cosa succede dalle elezioni poi ci penseremo che cosa fa il Fondo Monetario per promuovere politiche di stabilità questa era la domanda insomma tutta l'azione del Fondo Monetario è ispirata al raggiungimento della stabilità economica più di recente il Fondo Monetario ha sottolineato come la stabilità economica può essere raggiunta soltanto se c'è una sufficiente crescita in qualche modo è cambiata l'ottica la prospettiva prima si diceva che la stabilità economica è una condizione per la crescita adesso si stende più a sottolineare che la crescita è una condizione per la stabilità economica in qualche modo è vero in qualche modo è pericoloso è un po' la teoria della bicicletta la bicicletta sta in piedi soltanto se va avanti se c'è crescita in realtà noi dovremmo cercare di avere dei sistemi economici che riescono ad essere stabili anche in assenza di crescita il fatto che un sistema economico è stabile soltanto se c'è crescita mi preoccupa abbastanza e non vorrei che fosse il cane che si morde la coda che sempre più tendiamo dei processi di crescita che possono continuare soltanto se si autoalimentano e quindi la stabilità diventa di nuovo legata a questa continuazione del processo di crescita è un po' pericolosa tutte le raccomandazioni del Fondo Monetario comunque sono ispirate a questa idea che appunto al momento occorrono riforme strutturali per alimentare la crescita dell'offerta al tempo stesso c'è una carenza di domanda a livello globale e questa va alimentata tramite politiche espansive di domanda monetarie e fiscali tranne in alcuni paesi che non ce lo possano permettere domande? Buongiorno io sono Paolo Muceciaro consulente d'azienda ecco l'argomento del performance manager che cercava anche il professor Bassi di indagare è che lei giustamente sono concordissimo nel dire che è un fatto culturale in Italia chissà mai è quasi lontano nel luce dalla nostra mentalità ma io ritengo anche che sia una mentalità politica la riforma media che le citava ha fissato specie nella gestione del personale ed è un riordino tipico di corporate governance tipicamente anche un po' aziendalistico nella gestione delle partecipate pubbliche molto innovativo e evolutivo e potrà dare esiti nel corso degli altri se l'applicheranno però lì ha già messo anche i paletti per poterlo fare individuando anche la sanzionabilità cose che in Italia forse politicamente non si fa come si fa nell'azienda si dice non devi fare certe cose però se non la fai non ti costa niente per cui tutti quanti continuano a farlo ecco lei parlava di performance margin è vero non si farà mai ci sarà difficile ma copiando anche gli UK io così da libero cittadino anche senza altro gli studenti che lo studiano nei master già lo conosco però lei quali indica che dovrebbero essere le soluzioni anche a livello generale si dovrebbero attuare nel performance margin ad esempio un settore che tanto poi il partner qui che è sponsorship ce lo può insegnare nella gestione dei rifiuti perché so di realtà in Italia al nord come al centro Italia che sono molto virtuose poi vediamo Roma con il caso dei frigoriferi che abbiamo visto e lì insegno un po' qual è la mentalità di culturale che c'è in Italia però lì ci possono essere delle indicazioni di come fare performance ma lei che suggerimenti ci darebbe ad esempio un settore come questo qui che dove c'è tanto da fare e ci sono già le realtà e siamo leader noi lei diceva dell'esportazione noi esportiamo rifiuti perché i tedeschi vengono in Italia a comprare i nostri rifiuti perché noi non sappiamo smaltirli quindi ci dovrebbero essere delle soluzioni per poter fare questa innovazione e quale lei ci suggerisce e ci insegna per fare performance budget proprio in questi settori no io non volevo forse vi ho dato l'impressione di non pensare lei l'ha accennato che queste cose possono mai realizzare in Italia no io intendo dire che bisogna farle quindi tutto non pensiamo che sia una cosa che in due o tre anni si risolve quindi questo non vuol dire non partire anzi le cose per cui ci vuole più tempo bisogna partire il più presto possibile io comincerei e in parte appunto si stanno già facendo l'ANVU fa un lavoro di questo genere io partirei da alcuni settori specifici quello dei rifiuti può essere la sanità pure estremamente importante quello che è decisivo secondo me è quello di dire dopo due anni facciamo una valutazione completa ben fatta trasparente eccetera e in conseguenza di questa valutazione prendiamo decisioni su modificare un programma di spesa continuarlo cancellarlo o meno questa è la cosa che manca ci sono anche modi di misurazione si fanno si misurano anche in alcuni casi la performance quello che manca è il legame col budget quindi è il budgeting la componente di budgeting che non è collegata perché le decisioni di budgeting a livello nazionale e ovviamente anche a livello locale ma non vengono prese sulla base di decisioni della performance quindi nel 2009 si sono introdotti indicatori di performance eccetera per la spesa pubblica la spesa pubblica è stata divisa in programmi di spesa è stata una cosa pro forma perché gli indicatori non erano validi e anche per questo poi quando si arriva al momento di fare il budget ci si dimentica completamente dopo di che si arriva a una settimana prima e si dice beh chiediamo ai ministeri di tagliare tutti nello stesso ammontare poi i ministeri dicono ovviamente io non posso farlo allora poi si arriva perché questo è il modo con cui effettivamente succede lo racconta pure Perotti nel libro a un certo momento l'ho sperimentato pure io si fa un certo lavoro poi una settimana prima si dice ah no queste cose qui sono troppo politicamente troppo difficili allora chiediamo ai ministeri di tagliare tutti del 3% poi i ministeri dicono ma io quasi tutta la mia spesa è spesa personale se io devo tagliare 3% devo smettere di comprare benzina per le auto della polizia allora volete che smetta di comprare benzina con le auto della polizia no non è possibile allora non si taglia questi sono i meccanismi ci vuole un processo ordinato chiaro trasparente e la cosa che sarebbe anche opportuno fare è che ci fosse un accordo bipartisan tra opposizione e governo per fare queste cose nel medio termine in modo tale che il futuro di una introduzione del performance budgeting non fosse legata ai destini del governo io insegno diritto amministrativo quindi vorrei tornare al tema delle partecipate il test unico presenta secondo me molti difetti i principali sono essenzialmente che un test unico dovrebbe operare una risistemazione di tutte le norme speciali che in questi anni sono stratificate che hanno portato a un complesso anche eccessivo di complicazioni sul piano interpretativo questo non lo fa il test unico abroga soltanto alcune disposizioni ne lascia in piedi molte altre e poi soprattutto prevede una serie di eccezioni di deroghe che dalle società quotate alle società che hanno strumenti finanziari quotati a tante altre società delle fiere perdine una per tante altre che vengono completamente esentate dall'applicazione di quelle disposizioni quindi anche i due criteri fondamentali che sono individuati al test unico di fatto vengono ad essere a perdere di cogenza per molte società dall'altro lato però su questo vorrei soprattutto la sua opinione mi pare che l'idea che venga fuori da quel test unico sia sostanzialmente di una fortissima compressione dei partenariati pubblico privati dico questo perché fondamentalmente l'unica ipotesi in cui si possono fare partenariati pubblico privati mediante lo strumento societario sono essenzialmente per fare opere pubbliche e gestire servizi pubblici a me pare che una restrizione così forte di queste possibilità per le pubbliche amministrazioni di intervenire anche in campo economico siano eccessive anche alla luce di un raffronto che possiamo fare con la Francia ad esempio dove le SEM le società di economia mista hanno uno spazio di intervento molto più ampio rispetto a quella che è appunto la prefigurazione che esce dal test unico sulle partecipate e questo rischia però secondo me di creare una serie di torture perché faccio qualche esempio per chiarire ad esempio ci sono società consortili in questa regione faccio gli esempi delle società che gestiscono alcune sedi secondarie universitarie Forlì Cesena e Rimini per esempio in cui la società consortile è stata concepita proprio per attrarre anche una partecipazione dei privati per la gestione di una serie di servizi che il pubblico non riesce ad erogare con le sue finanze allora il rischio mi sembra quello però ecco di restringere a questo punto da questo punto perché non c'è solo pubblico e poi bisogna chiarire cosa è pubblico perché le nozioni di soggetto pubblico variano naturalmente ormai da settore a settore dagli aiuti di Stato agli appalti pubblici alla circolazione delle persone in ambito europeo quindi senza contare naturalmente il nostro ordinamento quante nozioni di soggetto pubblico ci sono e non c'è solo privato ma c'è anche appunto ci sono anche i partenariati grazie dunque grazie per questa domanda io non ho studiato a fondo il testo unico sulle partecipate pensavo che avesse in realtà abrogato la maggior parte delle cose che stavano fuori però lei mi dice che non è un vero testo unico la questione delle deroghe purtroppo invece la conoscevo anche perché di nuovo è una delle questioni che cita una delle critiche che fa Perotti alla riforma delle partecipate ci sono deroghe per gruppi di imprese ci sono deroghe che riguardano particolari casi nell'applicazione di norme specifiche quindi purtroppo c'è questo rischio che alla fine quello che viene applicato in pratica sia molto molto limitato rispetto a quello che dovrebbe essere una riforma complessiva del settore io ci metterei anche che alcuni problemi grossi di alcuni settori delle partecipate tipo il trasporto pubblico locale proprio non sono toccati da queste riforme lì è stata presa la decisione insomma di quello è un settore molto delicato infatti io ho problemi anche ma fin dalla legge delega appunto non ho un problema soltanto con i decreti legislativi ho un problema con la legge delega originale sulla questione del del partenariato vorrei in qualche modo essere stato in parte responsabile di questa cosa non sapevo appunto questo aspetto specifico ma nel mio rapporto una delle cose che dicevo è che molto spesso è difficile giustificare la partecipazione molto minoritaria in certa società del settore pubblico se una partecipazione come dico a priori secondo me uno dovrebbe essere piuttosto scettico sulla partecipazione del settore pubblico al di fuori con la creazione di una partecipata per un insieme di motivi errare se c'è bisogno sul err on the side of caution come si dice errare dal lato della prudenza se posso tradurlo in questo modo per cui il settore pubblico dovrebbe fare una partecipata quando davvero è strategica la propria partecipazione allora una partecipazione dell'1-2% è difficile giustificare la strategicità perché io dicevo queste cose sarebbe meglio eliminarle ora non so forse si è ecceduto in senso opposto è chiaro che il partenariato è una cosa appropriata in un numero molto ampio di situazioni però non so esattamente dopo il semispostato negli Stati Uniti ho cominciato a seguire i dettagli di queste cose in maniera meno approfondita quindi non ho mai letto completamente i decreti legislativi soprattutto la legge dele che l'avevo letta in maniera abbastanza dettagliata ma i decreti legislativi non li conosco mi spiacerebbe se si fossero eliminate delle possibilità di utile collaborazione tra pubblico e privato salve sono uno studente di scienze politiche dell'università di Trieste dell'amministrazione che insieme alla mia compagna siamo venuti apposta dato che un professore ci ha fatto come esame di scienze dell'amministrazione studiare il suo libro sulla revisione della spesa quindi adesso siamo purtroppo un pochino un po' ammalati di spendire più e questo problema che ci attanaglia da diversi anni e che adesso diciamo ci ha dato la possibilità di ascoltare lei ci ha portato fino a Ferrara io in particolare su una cosa sono molto d'accordo con lei nel suo libro e che vedo che comunque in Italia non si porta avanti e che si parla solo per slogan ed è la riforma di quello che è i 270 miliardi di spesa pubblica cioè le pensioni che sono il problema fondamentale di questo paese e secondo lei ciò che si sta facendo a livello di APE ciò che si farà a livello di aumento delle pensioni minime e ciò che non si farà invece come taglio come le aveva proposto e come riclassificazione di quello che era delle pensioni ridistributive tagliandole portandole a un pochino ad andare più verso un sistema contributivo anche da chi era entrato precedentemente in pensione è possibile in un futuro è auspicabile cioè non so è auspicabile in qualche modo perché politicamente vediamo che sembra quasi impossibile parlare di pensioni addirittura cerchiamo di reintrodurre di eliminare delle riforme che per quanto sono state lacrime e sangue come quella fornero erano più che necessarie allora quindi volevo una sua risposta su proprio sulle pensioni grazie io ok sentiamo l'altra domanda grazie cederei molto più volentieri il microfono agli studenti comunque sono Borasio pensionato di questa università campo scientifico il mio campo era la neuroscienza insegnavo scienze biologiche c'è un aspetto su cui concordo totalmente con lei cioè che la riduzione del debito pubblico sia essenziale per il nostro futuro questo però mi pare solo un lato della medaglia c'è l'altro lato che è quello della espansione come possiamo fare gli esempi che abbiamo l'esempio principale secondo me è quello della Germania perché la Germania è così avanti rispetto a noi ha fatto delle modifiche strutturali certamente negli anni passati ma certamente non è quella la risposta a mio avviso che nasce dalla mia esperienza diretta e di conoscenza della Germania ma anche di conoscenze varie ricordo vent'anni fa ho conosciuto delle persone che operavano nel campo dell'import-export con i paesi del Medio e Lontano Oriente e mi dissero una cosa molto chiara noi non possiamo competere nel campo della produzione con questi nuovi paesi noi possiamo competere soltanto se investiamo in cervelli investire in cervelli significa investire in conoscenza quindi investire fondamentalmente nella scuola e nell'università l'esperienza comune di questi anni invece è stato un calo continuo e drammatico ma quali sono i dati i dati se noi andiamo a guardare se guardiamo il ranking internazionale le nostre migliori università appaiono in posizioni molto basse se non vado errato sotto il duecentesimo posto e su questo ho sentito molte lamentazioni anche da una persona un collega universitario importante che voi avete citato fino adesso il professor Perotti io ricordo le sue lamentazioni da questo punto di vista ma nel 2004 appare su Nature un lavoro intitolato The Scientific Impact on Nations in cui a dispetto degli economisti qualche d'uno ha fatto il rapporto tra la produzione scientifica e l'investimento ebbene questo rapporto per l'Italia era molto vicino se non uguale a quello della Germania e della Francia un po' meno dell'Inghilterra un po' meno del Giappone degli Stati Uniti quindi da un punto di vista della produzione scientifica noi non eravamo nel 2004 inferiori agli altri paesi europei dove stava la differenza la differenza stava e sta nel fatto che noi abbiamo in termini numerici il 50% in meno di ricercatori per unità di popolazione rispetto agli altri paesi europei rispetto alla Francia e alla Germania soprattutto quindi la risposta è come possiamo crescere se abbiamo pochi cervelli a disposizione grazie allora sulle pensioni io fin dall'inizio uno dei miei problemi che ho avuto con il governo è che avevo un punto di vista diverso sulle pensioni quindi non posso che ripetere che sì io penso che ci sia la necessità di si sono fatte riforme molto pesanti delle pensioni per i giovani chi sta lavorando adesso chi ancora non è andato in pensione giovani o meno giovani ma comunque chi non è andato ancora in pensione il problema dell'Italia è che le pensioni in passato erano troppo generose rispetto ai contributi versati e secondo me bisognerebbe continuo a ripetere bisognerebbe mettere in mano questa cosa però è molto difficile politicamente e ci vorrebbe un un governo ci vorrebbe un partito politico che ha il coraggio di dire questa cosa e andare ad elezioni avendo nel proprio programma una revisione di questa cosa succederà ma non lo so io spererei spererei di sì però ancora non si è visto un partito che voglia fare una cosa di questo genere il mio ruolo come tecnico è lo stesso fatto Boeri Boeri di recente ha detto che la legge di Biancio del 2017 è una legge e la riforma e le azioni che sono prese in questa legge compresa anche nel campo delle pensioni non tiene conto degli interessi dei giovani e quindi è un problema io sono solo d'accordo con Boeri su questo punto sulla questione di nuovo si torna al tema visto che il settore pubblico non può stimolare la crescita attraverso la spesa pubblica o addirittura attraverso il taglio delle tasse non coperto da tagli di spesa a meno che non si riduca anche la spesa cosa bisogna fare perché l'Italia cresca di più allora lei ha citato un punto che è estremamente importante quello della ricerca scientifica soprattutto dell'applicazione dell'innovazione scientifica io però sono e è una cosa che va fatta senza altro quindi sono completamente d'accordo con lei io però sono quello che in America si chiama un plain vanilla guy cioè uno che guarda alle spiegazioni prima di andare a trovare le spiegazioni più complicate vediamo se le spiegazioni semplici aiutano ora io non so se c'è un gessetto se noi facciamo un grafico quando un economista del fondo monetario vuol vedere se un paese può crescere la prima cosa che fa vedere sono gli indicatori di competitività allora l'indicatore principale di competitività è il costo del lavoro per unità di prodotto cioè quanto costa produrre una sedia in Italia in Germania eccetera questa cosa quanto costa produrre una sedia dipende dal costo del lavoro e dalla produttività del lavoro quindi si guarda il rapporto per questo si guarda unilabel cost il costo del lavoro per unità di prodotto allora questo qui dal 2000 in Germania ha fatto questo in Italia ha fatto questo poi adesso negli ultimi anni in Germania è andato su fra l'altro la Germania sta aumentando e noi siamo rimasti stabili più o meno però questo gap è di circa il 15% quindi abbiamo un gap di competitività con la Germania che in conseguenza dell'entrata dell'euro noi ci portiamo dietro vuol dire che siamo entrati nell'euro senza preparare a cambiare i comportamenti in termini di crescita dei prezzi e dei salari perché eravamo ancora abituati a svalutare ogni 3-4 anni abbiamo perso quello strumento che ci consentiva di recuperare competitività ecco secondo me se non risolviamo questo problema sarà comunque difficile tornare alla crescita e tornare soprattutto a una crescita che è condotta dalle esportazioni ci sono però tante cose che possono essere fatte per migliorare non è che l'unico modo per abbassare il costo del lavoro per unità di prodotto sia quello di tagliare i salari lo si può fare anche aumentando la produttività e una delle cose che si può fare per aumentare la produttività appunto sono quelle cose di cui stavo parlando come si possono fare tante altre cose rendere la pubblica amministrazione più efficiente consente che questo di aumentare la produttività perché appunto nel settore privato dipende anche del settore pubblico ma questo è secondo me questo è un problema che dobbiamo affrontare e ancora non abbiamo affrontato bene purtroppo ho il compito odioso di dover chiudere so che ci sono altre domande per cui purtroppo non siamo in grado di affrontarle tutte ma questo è un invito per chi vuole a continuare a stare insieme al dottor Cottarelli in quanto pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 interverrà presso la Camera di Commercio di Ferrara su temi diversi su temi legati al quadro macroeconomico mondiale e italiano quindi su tematiche che tra l'altro riguardano anche questi aspetti prima citati per cui non mi rimane che ringraziare nuovamente il dottor Cottarelli e voi tutti che siete intervenuti per le domande con le quali avete ravvivato il dibattito speriamo di averla ancora qui magari già il prossimo anno visto che era qua l'anno precedente e comunque la ringraziamo nuovamente di chiamo un alto applauso e salutiamo anche le altre aule perché siamo in diretta streaming grazie a tutti grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti